ehi guys benvenuti sul canale degli ammendola brothers io sono jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo su nba 2k15 per un'altra grandissima sfida richiestaci da voi iscritti appunto come sempre l'ultima sfida ragazzi su nba 2k15 perché tra poco tra poche settimane uscirà finalmente 2k16 lo aspetto tanto non vedo l'ora di giocarci di fare tante sfide con voi la carriera tanti back and play con il grande nba 2k15 quindi iscrivetevi se volete vedere appunto tutti questi video se non siete iscritti niente aspettate quando è che appena esce io ho prenotato la michael jordan edition perché appunto grande fan di michael jordan e dei blues dei blues dei bulls per chi mi segue lo sa va bene vi invito a vedere lo scorso video ragazzi di nba dove ho parlato appunto di tutte le novità e di tutte le cose di nba 2k15 e di quello che succederà su nba 2k16 ve lo metto nelle schede sopra a destra del video quindi vi metto lo scorso video di nba e andatevelo a vedere e intanto la sfida di oggi ci viene richiesta da francesco decina che scrive larry bird contro michael jordan grandissima sfida io come chi potevo scegliere ma logicamente michael jordan come sempre nel nostro canale ci sono tante sfide con partecipante michael jordan perché mi richiedete sempre michael jordan che ci posso fare però richiedetemi anche sfide due contro due ragazzi richiedetemi sfide senza michael jordan anche io logicamente farò le più belle quelle che più mi richiedete perché questa lary bird michael jordan mi è stata richiesta tre quattro volte il più recente è quello di francesco decina allora ho deciso di mettere questo commento qua e di accontentare appunto tutti quelli scrivetemi nei commenti se per caso avete avete chiesto voi anche voi la questa sfida qui se vi piace appunto cliccate un mi piace andiamo a vedere vediamo chi vincerà ed ecco si parte ho scelto gli stessi anni in pratica michael jordan nello stesso anno di lary bird quindi diciamo questa sfida nella realtà c'è stata c'è stata già grande primo canestro c'è stata già ai suoi tempi logicamente in squadra e non uno contro uno non so se hanno mai fatto uno contro uno non credo però quindi grande stoppata di jordan mamma mia si vede infatti che jordan è più un ragazzo è molto più magro meno muscoli quindi aveva appena iniziato infatti è il primo anno se non sbaglio questo qui 85 85 se non sbaglio la il giocatore che ho scelto grande no perché ho premuto giù un triangolo potevo prenderla ha pareggiato vabbè si arriva sempre a 21 ragazzi quindi questo è il primo michael jordan che c'è nel gioco almeno il primo anno e nello stesso anno c'è poi ci sono pure i celtics con lary bird vai mi fa passare mi fa passare e proviamo una virata e e mamma mia che gli ho combinato e la insacca voglio vedere una schiacciata alla jordan però ragazzi no ci vuole una schiacciata alla jordan ti fermo anche se lary bird fortissimo ragazzi si vede mi nei commenti voi per chi vi piace di più come giocatore so che michael jordan è il più famoso scriverete quasi tutti i michael jordan però ci può essere qualcuno che preferisce lary bird è uno dei giocatori più richiesti forse sul sul canale per le sfide sono di del passato sono proprio michael jordan e lary bird forse anche qualche anche shaggy o'neill è stato richiesto parecchie volte magic johnson questi qui sono i più richiesti grande recupero se non parlo a volte ma appunto devo concentrarmi la difficoltà è quella prima della massima perché in molti grande eccole mostruosa schiacciata grandissimo me col jordan perché mi chiedete spesso che difficoltà hai fatto la sfida ho messo in modo che posso anche perdere è capitato parecchie volte che ho perso la sfida perché appunto c'era troppa differenza ma con jordan diciamo è vita facile forse dovevo mettere la difficoltà massima con michael scegliendo michael jordan siccome ha tutte le abilità e tutte le cose più forti ma non ho preso quello dei tempi d'oro apposta per per essere non troppo avvantaggiato però comunque la difficoltà prima di quella massima e mi riesce a far prestare o guarda lì come gliela buttata grande cadendo proprio michael jordan riusciva a fare canestro pure se gli davano un pugno nella pancia mentre lui saltava la palla era tipo telecomandata basta che lui la lasciava andava dentro grande oh vai vai corri corri grande mi sa che questa la vinco facile non è detto non è detto proviamo uno da tre anche se jordan non è bravissimo da tre ma mamma mia la butta anche da tre grande jordan è bravissimo in tutto dai ritiro quello che ha detto non è bravissimo da tre sono proprio un fanboy è di hashtag jonathan fanboy di michael jordan mamma mia l'ha buttata dentro l'herry bird però l'herry bird con quelli scarpini verdi con il suo baffetto è simpatico mi è simpatico e vai vai jordan vai vai ragazzi voi avete prenotato mb2k16 lo aspettate tanto io non vedo l'ora ragazzi di poterci giocare di vedere la carriera perché è uscito un trailer ragazzi dove fa vedere un ragazzo c'è un ragazzo un personaggio creato che dice l'università dice partire dall'università poi ci sono i membri della famiglia a suo fianco quindi la carriera sarà ancora più dettagliata ci saranno dei degli eventi e delle cose che influiranno secondo me tipo non so il rapporto familiare poi hanno messo tipo nel nella copertina di mb in scritto tipo linguaggio violento droga se non sbaglio quindi si pensa che mannaggia nella carriera si ci saranno filmati è tutto che parleranno appunto di cose così tipo che ne so posso immaginare me ne vado per un'idea che tipo devi scegliere andare in discoteca divertirti con gli amici e la sera in discoteca tipo ti vanno a fare il test antidroga e ti vieni penalizzato tipo per tre partite non so cose così strupidate così penso è me ne sono andato per un'idea poi può darsi pure che non hanno fatto niente di questo è hanno messo solo una conversazione tra shaquillo nille e un altro che si prendono a parolacce dicono drogato di cacca e allora quello è quello è tutto quello che ho potuto pensare io scrivetemi nei commenti ragazzi cosa vi aspettate cosa vi piacesse vi piacerebbe che ci fosse nel nella carriera di nba secondo secondo voi cosa cosa manca intanto sto vincendo 10 a 6 proviamo di troppo lontano troppo lontano e niente non ci va cosa vi piacesse appunto cosa vi piacerebbe appunto che che aggiungono a la carriera di nba sei fermo parlare giocare sempre difficile ragazzi sempre difficile intendo sto vincendo 10 a 7 quindi chissà a me sarebbe piaciuto tipo fare qualche partita nell'università cioè quando nella squadra con i ragazzi quando sei ragazzo e quindi da come ti comporti con quella squadra è più possibilità poi di entrare grande nel nel draft di entrare in una squadra più forte in una squadra meno forte perché tutte le carriere di nba almeno quello che ricordo io partono tutte dal draft cioè che viene scelto al draft da una squadra quindi non hai chance di entrare subito in una squadra forte poi logicamente nella squadra parti da panchinaro poi ti devi far vedere guarda lì grande mamma mia me l'ha presa l'herry bird quindi mi piacerebbe tanto porca miseria questo mi sta venendo a pareggiare fatto da due cioè da tre però vale due porca miseria l'herry bird zitto 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 quindi mi piacerebbe avere questa chance nella carriera vai e grande jordan poi non so qualche altra idea non ne ho tanto una volta mettevano delle strupidate tipo tipo gioca con il pallone più piccolo e quindi ti cambiava tutte le statistiche oppure con il pallone cioè tipo con una pallina giocavano poi misero tipo mi piacerebbe tipo una cosa che hanno messo bella qua è quando fai la carriera e ci sono i tiri da tre la giornata tipo al star dei migliori tiri da tre da stagione ti fa fare tutti i tiri consecutivi quel minigioco diciamo che fanno anche quando a metà la stagione ci sono gli al star avete capito quale intendo però se voglio farlo così o almeno non lo so se voglio farlo così per divertimento non lo posso scegliere devo fare la carriera devo arrivare a quella partita ma che mi ha tolto me l'ha tolta proprio da mano e ha fatto canestro non la posso non la posso fare quella modalità quindi piacerebbe nuove modalità oltre che nuove squadre le rose aggiornate la carriera migliore qualche stupidata così sarebbe divertente e grande jordan non dobbiamo perdere cioè molto alla pari questa parte mi era avvantaggiato poi parlando nel discorso per concentrarmi a non dire stupidate perché stavo giocando un po be un po peggio e infatti mi ha pareggiato l'herry bird ma ce la devo fare jordan non può perdere e quindi facciamo un po di finte vediamo se riusciamo a tirare da tre no no grande la recupera subito jordan gli gira intorno e la butta dentro mamma mia è troppo forte troppo forte michael jordan vai fermalo 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 no porca miseria non riesco a fermarlo questo stupido no vabbè l'herry bird non è stupido è fortissimo però voglio fermarlo adesso è contro di me quindi è uno stupido vai aspetta ci siamo intorno facciamo e guarda lì come lo frega e la in sacca grande jordan ho fatto proprio un una grande giocata ho fatto vinto piano piano mi sono un po allontanato poi uno scatto proprio alla jordan in ultra velocità per passare e lui non mi ha visto proprio fermalo grande recupero da dove tiri sei domani no no l'ho buttata dentro come cavolo ha fatto come cavolo hai fatto non ci credo detto vabbè domani l'ho buttata dentro era era quasi metà campo ragazzi e io sbaglio pure da 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 vicino no 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 ragazzi mi sta vincendo non voglio colpo di scena infatti si vede che la difficoltà massi cioè meno uno meno della difficoltà massima porca miseriaccia vai togliela jordan mai che a rubare sei sei un grande vai jordan sbagliala sbagliala e vai grande recupera facciamo il giro e no non mi ha fatto passare qualche finta e gira intorno no prendila di nuovo prendila di nuovo tira e mo insaccala però mo insaccala e pareggiamo pareggiamo i conti mamma mia sto pensando ancora a quel canestro che ha fatto da lì giù non ho detto vabbè non segna non pensavo mai che andasse dentro e invece niente per portarmi in vantaggio ragazzi devo fare uno da tre ma rischio 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 non voglio rischiare preferisco a provare a rubarli alla no ma che fai no che fai jordan devo provare per forza da tre ragazzi non ci credo sarà la prima sfida che perdo con jordan no 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 non devo farlo segnare no 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 ma che fai dove vai no l'ultimo punto ragazzi non ci credo la prima sfida che perdo con jordan ho sbagliato a scegliere quello troppo giovane anche io pure che sono un po arrugginito non gioco più ultimamente a nba ma non mi fa passare non mi fa passare guarda non mi fa passare lo stupido no ho perso no no non passare non passare no no ragazzi non ci credo vincevo di cinque punti mi ha recuperato mi ha superato ragazzi la scampa larry bird a sorpresa ragazzi a sorpresa la scampa larry bird vince lui la sfida con michael jordan ragazzi mamma mia scrivetemi nei commenti ragazzi secondo voi se se fanno una sfida nella realtà chi vince cioè chi avrebbe vinto se avessero fatto una sfida a quei tempi michael jordan e larry bird difficile da dire difficile da dire non lo sapremo mai secondo me michael jordan ma in questa sfida ha vinto larry bird quindi non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sapremo mai però almeno nelle sfide possiamo saperlo è vinto larry bird scrivetemi nei commenti ragazzi come sempre le sfide che volete vedere le prossime sempre con giocatori moderni o del passato assicuratevi che ci siano però in nba 2k 15 ma la maggior parte dei più famosi ci sono quindi anche 2 contro 2 anche 3 contro 3 consigliatemi voi tutte le sfide tutte le cose e che dire più ragazzi se il gameplay vi è piaciuto come sempre cliccate un bel mi piace iscrivetevi alla pagina facebook trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale se non siete iscritti per tanti video di nba sfide e carriera si avvicina all'uscita di nba 2k 16 quindi restate sul nostro canale con tanti 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 gameplay bene quindi se per caso il gameplay non vi è piaciuto non vi è piaciuto che ha perso michael jordan anche a me non è piaciuto però non clicco non clicco non mi piace e a nessun video pure se vede un video dove michael jordan perde anche se sono fan di michael jordan quindi se voi clicca a voi che cliccate non mi piace e che il video non vi è piaciuto perché non vi piace nba e cliccate non mi piace da parte della grande vittoria di larry bird grazie ragazzi da jonathan amendola e di amendola brothers allo prossimo video ciao adio ciao